Caro Henry, quando due persone ostinate sono di fronte e nessuno vuol cedere, o ci si batte, magari a pugni, e non è in nostro caso fraterno, o si lascia decidere alla sorte. Questa è una vecchia ghinea, non truccata. Vedi Paolo, noi siamo in quattro, ci sono ventisei candeline, ed è la quindicesima volta che ci incontriamo. Quattro, ventisei, quindici. Potrebbe essere un ottimo terno all'otto. Tu sei un uomo sposato, e la mia famiglia rischia il disonore. Ascolta Elisa, di questo abbiamo parlato mille volte. I tuoi sanno che prima o poi avrò l'annullamento, e che solo allora potremo sposarci. Ah sì, Lola. Adesso ti vado a prendere una bella fetta di anguria. Ecco, buongiorno Giuseppe, benvenuto. Grazie. Grazie per essere con noi. Grazie. Cinema, teatro, televisione, sempre alla ricerca di nuove sfide. Eh beh, sì, sì. Da tutta la vita. È il segno della mia professione, insomma. Mi piace, mi diverte, cercare sempre nuove... Nuovi stimoli. Eh sì, nuovi stimoli, nuove cose. Mi piace molto passare dal drammatico al comico, ecco. L'essenza dell'attore è quello, no? Divertirsi. Anche uscire dalle zone di comfort, no? Esatto. Che sono un po' scontate, in cui uno, ognuno magari è abituato a fare quella cosa. Certo, uno si abitua, fa sempre quello. A proposito, mi hai detto che sono barbuto perché stai girando. Ah sì, perché adesso sto facendo Edipo a Colono con mia figlia, Nicole. Che è un'attrice. È un puntato, è andato molto bene, è un spettacolo molto, molto emozionante. È la fase finale di Edipo, insomma. E siete in scena, siete in giro? Siamo in scena, adesso saremo a Segesta 2021-2022, e poi a Pollina e poi altre piazze in giro. Poi dopo, mi vedete, devo cominciare altre prove. Ma com'è lavorare con tua figlia? Beh, è piacevole. Anche perché tu hai cominciato lavorando con tua moglie. Beh, certo. Hai conosciuto lei sul luogo del delitto. Assolutamente. Poi anche con mia moglie, mia figlia, abbiamo fatto spettacoli. Abbiamo fatto Anna Frank, per esempio, insieme. La famiglia, quindi c'era tutta la famiglia. Ma perché prima in teatro c'era un po' questa mentalità, no? Della grande ditta famiglia teatrale. Ebbene, è bello questa notte sommato, sì. Anche perché si stava fuori tanto tempo, molto meno di oggi. Molto meno, molto meno. Allora si preparavano i bauli, si stavano fuori sei mesi. Sì, i bambini dormivano, nascevano nei bauli, con i cuscini, con le coperte, no? Si partiva e si tornava dopo sei mesi. Erano altri tempi. Oggi, quando fai un mese e mezzo, è già tantissimo di teatro. Però si sta riprendendo. Si sta molto riprendendo. Sì, sì, teatro, c'è grande voglia di teatro. La gente ha voglia di venire a vedere il live, no? Sì, sì, sì. Di emozionarsi comunque, che sia drammatico, comico, l'emozione, il fatto di star lì davanti, godere. E per te quanto è importante tornare in teatro? Il teatro è la palestra, no? Dell'attore. Ma per tutti i grandi è stata una palestra. Pensiamo a Mastroianni, pensiamo a Gasman, pensiamo a tutti, anche in America, perché al Pacino cominciava a fare il teatro off, quando ha iniziato c'era il teatro off. Cioè, chiunque, il grande attore, l'attore importante, parte sempre, le sue radici sono lì. Perché ha bisogno di tornare in teatro l'attore? Dopo un po', magari dopo un po' di film, di fiction, di serie? Eh, perché ritrova il contatto vero col pubblico, molto più emozionante che non con la fiction, che a me piace fare, cinema, eccetera. E' bellissimo, straordinario, però, insomma, il contatto immediato col pubblico, ce l'hai soltanto col teatro, che ti dà quell'emozione in più, quello scatto in più, proprio, che ti porta a avere questa magia incredibile col pubblico. Un filo che si crea, no? Un filo che lega l'attore con il pubblico. Esatto, esatto, che poi cambia di piazza in piazza, tu fai lo stesso spettacolo, ma magari in una piazza ridono meno, in un altro ridono di più. Cambia sempre il pubblico, no? Certo. E poi anche tu, infatti, sai benissimo. Giuseppe, come fai? Negli anni sei uno di quei pochi attori che è veramente riuscito a tenere incollato il pubblico alla poltrona di casa, appunto, o del teatro o del cinema. Che cos'è? Carisma? Ma io credo... Studio? Professionalità? Sincerità? Un po' distinto, un po' forse carisma. La voglia comunque di fare e la gioia di fare quello che ti fanno fare. Quindi i testi che tu incontri, il piacere di fare questa professione si trasmette al pubblico inevitabilmente. È una gioia, no? Questo crea quel feeling incredibile che poi lo senti, lo senti soprattutto alla fine, quando applaudono, alla fine di uno spettacolo. Giuseppe, tu hai dichiarato che ci sono attori non attori. Cosa volevi dire? Ho dichiarato questo. È vero o è qualcosa che a volte accade? No, beh, attori non attori vuol dire che sono attori che fingono di essere attori. Nel senso che io una cosa che sostengo sempre anche con i giovani è la verità. Che tu faccia un fonema o che tu faccia una battuta razionale, è importante che ci sia dentro sempre una verità. Se non c'è quella fallisci, cioè non arriva, ecco, non arriva il messaggio. Poi attori, insomma, oggi abbiamo, sono moltissimi attori giovani bravi, assolutamente bravi. Io ne ho incontrati tanti, altri che si dovrebbero dare un po' meno d'arie e accostarsi con più umiltà con la professione. E quindi umiltà, la parola è chiave. Ascoltando, guardando, osservando, vedendo anche chi ha un'esperienza maggiore della loro per imparare. È quello che si deve fare, che ho fatto anch'io quando ero ragazzo, quando ero giovane, quando iniziavo. Hai avuto grandi maestri? Sì, beh, sì, insomma, sono uscito dalla scuola del piccolo, di Strele, Ronconi, Zeffirelli. Enriquez che mi ha fatto fare il primo grande spettacolo a 23 anni, protagonisti insieme a Moriconi e Montagnani, insomma, una grande emozione, Le Mosche di Sartre e poi da lì, insomma, tanti altri registi, Scaparro, Calenda, tutti. I più grandi. Li ho passati un po' tutti, diciamo. I più grandi, i più grandi. Sì, sì, esatto. Ed è, si impara da tutti, è qualcosa anche, perché se rimani fisso magari con un regista soltanto, cioè hai un modo di vedere il teatro. È chiaro che Ronconi ti apre orizzonti incredibili, Streler te ne apre altri. E questo poi mettendoli insieme, sintetizzando l'attore con l'esperienza, riesce a rendere sempre di più. Le caselle diventano tante, quelle da cui prendere. E poi le vai ad aprire quando ti servono, con i file, no? Esatto, esatto. E ogni volta c'è emozione, ogni volta che vai in scena, cioè il vero attore, secondo me, deve emozionarsi sempre. Il passaggio dalla quinta, diciamo, al palcoscenico, quel passaggio proprio. È quel passaggio fondamentale, no? L'adrenalina. L'adrenalina che ti porta avanti, ti fa risolvere il problema. Beh, soprattutto quando si debutta, ovviamente, dei problemi in memoria, cose, c'è l'oddio, mi ricorderò tutto. Mi ricorderò i passaggi. Senti, tu hai dichiarato il grande amore per gli sceneggiati. Sì, beh, ne ho fatti tanti, mi è sempre piaciuto farli. E sì, per non dire, insomma, le storie delle materassi. Ecco, e io vorrei vedere le storie delle materassi perché è stata una di quelle che ti ha dato grandissima popolarità. Sì, lì non ero nessuno, sono uscito di casa e improvvisamente, boom, è stato terribile. Cioè, terribile è meraviglioso, ma... Cioè, ti fermavano, cominciavano a fermarti, a riconoscerti. Certo, certo, tutti. Guardiamola. Posso portarlo io? Come? Eh? Ma sì, posso portarlo io il fagotto alla contessa? Così si chiarisce ogni cosa. No, zi te? Ma un patto! Eh sì, perché c'è! C'è un patto! Che patto? Quale patto? Io sarò qui fra mezz'ora. Voi vi fate trovare pronte, belle vestite e questa sera rimarrete con me a Firenze. Ceniamo insieme! Beh, sono due grandiose quelle, sono state due grandiose attrici. Beh, perché lui no, eh? Lui no. Senti, facciamo un altro passo indietro. Parliamo del Piccolo Teatro di Milano. Sì. Quanto è stato un luogo sacro per tutti, ma soprattutto per te? È stato importante quell'incontro con Streler? Ho cominciato, ho fatto la scuola del Piccolo, avevano finito la sessione quando mi sono presentato e allora sono uscito disperato, finito. Poi mi sento chiamare ed era Alberto Sironi, il regista poi di Montalbano, che anche lui aveva chiesto di fare il provino e hanno aperto un'altra sessione d'esami e lì sono entrato. Senti, ma prima abbiamo parlato di tua figlia, ma il Piccolo appunto è stato un luogo importante perché ti ha fatto incontrare tua moglie, lì a Tanzi. Eh sì, lei arrivò che aveva 16 anni. E tu hai dichiarato, lei era la più bella del corso, tutti i ragazzi avevano occhi solo per lei. Beh sì, è un po' vero questo. Ma tu... Devo dire però che il passo fondamentale l'ha fatto lei. Ah sì? Sì. Cioè cosa ha fatto? L'ha fatto lei, perché io avevo così una ragazzina eccetera e lei devo dire che è stata fondamentale in questo. Il primo passo l'ha fatto lei, ma succede ogni tanto. Ed è bello anche quello. Poi da lì è iniziato un rapporto bellissimo che continua ancora adesso. Complicità nella vita? Complicità assoluta sia in scena che fuori. Abbiamo fatto molti spettacoli insieme, però è chiaro che in scena ti conosci e quindi anche i risvolti psicologici si approfondiscono meglio. Adesso ci dobbiamo fermare qualche istante e continuiamo a parlare di Liatanzi ma anche di Nicole, di tua figlia. Ah sì? Siamo qui con Giuseppe Pambieri e abbiamo una sorpresa per te Giuseppe. Ah sì? Eh sì, perché c'è qualcuno che ti ha lasciato un videomessaggio, vediamo. Non è? Ma va. Ciao papino. Ci siamo lasciati poco tempo fa e fra qualche giorno ci rivediamo per proseguire la nostra avventura. E stavo riflettendo su una cosa. Noi abbiamo avuto la fortuna di lavorare molte volte insieme. Io ho interpretato diversi ruoli con te. Siamo stati marito e moglie, ho fatto la tua amante, la tua figlia, ma mai come in questo spettacolo le mie emozioni sono così intense. Perché non lo so, in qualche modo è come se ripercorressimo tutta la nostra vita. E devo dire che è un grande privilegio poter condividere, è stato un gran privilegio condividere con voi, con te, con mamma, non solo la vita privata ma anche quella lavorativa. E quindi grazie e ti amo tanto. E ciao a tutti. Una dichiarazione d'amore. Mi sono emozionata. Ma sai, mi emoziona molto questo spettacolo che stiamo facendo perché è tipo vecchio, ormai, che va verso la morte, no? Ed è accompagnato dalla figlia. Quindi mi ha creato un po', visto che l'età avanza, una certa emozione, in più rispetto al solito. Gigi, adesso mettiti su questa cosa emotiva, su questa corda emotiva. Parliamo di bellezza. Di bellezza. La bellezza che cos'è per lei, Pampieri? Lei che passa per essere una bella. È un dono da sfruttare, è un capitale da conquistare o una colpa da farsi perdonare? È una colpa da farsi perdonare. Parla per esperienza? Sì, perché fra due attori, in parità di bravura, vince sempre chi è più bruttino. Per la critica. Quindi l'immagine condiziona o non condiziona la vita? Beh, condiziona perché poi nella vita comunque, alla fine, quando scoprono che... un po', sei anche tu abbastanza bravo, è chiaro che allora poi si pareggia tutto e allora poi funziona, è chiaro che funziona anche sul pubblico. Ma la bellezza è più un'arma o è più una corazza? È più una corazza? È più una corazza? Sì, secondo me sì. E la bellezza è un'opinione oppure è un fatto oggettivo con tanto di misura e di canoni? È un'opinione oppure... O un fatto oggettivo con tanto di misura e di canoni? No, è un fatto oggettivo, insomma, tanto di misura che... Ed è un dono della natura o un capitale da conquistare? È un dono della natura, credo, assolutamente, no. Quindi un vantaggio o uno svantaggio? No, no, è un vantaggio. Che supera il talento o condiziona il talento a volte? Beh, condizione o talento a volte, assolutamente. Come ho detto prima... E la bellezza fa sentire onnipotenti o no? Fa sentire... Cosa è più seducente in una persona? La bellezza, la bontà o l'intelligenza, dicevamo prima? Intelligenza. Parla sempre per esperienza? Sì, insomma, è fondamentale. Ma il fatto di essere un bello e di essere passato e di passare ancora come un bello, l'ha aiutato a vivere meglio e a recitare peggio o viceversa? No, mi ha aiutato, come ho detto prima, non all'inizio, ma poi mi ha aiutato molto e anche forse a recitare meglio, secondo me. Poi a me piace fare, mascherarmi e diventare cattivo, orrendo, cambiarmi, lo dicevo. E può essere la bellezza una promessa di felicità? Sì, perché no, assolutamente. Assolutamente. Grazie, Giuseppe. In bocca al lupo per la russa. L'ultima cosa, come vedi il teatro, il futuro del teatro italiano? Ma il futuro del teatro italiano lo vedo che si sta riprendendo e poi il teatro non morirà mai, lo sappiamo, no? È un'espressione fondamentale della vita dell'uomo, rappresentarsi, vedersi, rappresentarsi. Quindi, secondo me, sono ottimista. Grazie. Andrà sempre meglio. Avrebbe fatto un messaggio come ha fatto sua moglie, lei a sua moglie? No, quella è la figlia, Nicole. No, io dico a sua moglie, perché sua moglie... Beh, mia moglie è adesso a casa, ha deciso di non fare più teatro, ma i nostri hanno un rapporto bellissimo. che continua sempre, lei mi segue. Perché lei è molto bella, sua moglie. Beh, è stata bellissima, adesso un po', siamo all'età, come me, no? Ovviamente qualcosa cambia, ma lei sì, è stata veramente una donna... Senti, la salutiamo, ci stava guardando. Grazie, Giuseppe. Grazie a voi. Grazie.